Sono passati ormai 15 anni da quando Giovanni Perna con lo storico staff Brooklyn Street al Fix di Pescara con Claudio Di Rocco, Luca Teseo, Carlo Palmerio, Pierpavo Pierotti e tantissimi altri amici decisero di mettere in piedi questo party. Eravamo a metà dicembre, le serate le passavamo a casa di Giovanni. In una serata tra amici venne fuori quest'idea, allora ritenuta folle. Fu così che allestimò la data. Claudio diede ampia disponibilità, ma in fondo anche lui era scettico. Il pomeriggio verso le 18, dopo il classico pranzo di Natale, ci ritrovammo tutti dentro l'ufficio del Fix House Grab, convinti che di lì a poco, gli unici a credere in questa serata, eravamo solo noi. Ad un certo punto sentiamo suonare insistentemente il campanello della porta principale. Fu Luca a scendere insieme a Pierpaolo. Erano i vigili urbani di Silvi Marina che Orlando e lo dissero, ma quando cazzo aprite? Non vedete che macello? La nazionale adriatica era completamente bloccata. Fuori dal locale circa 3.000 persone che chiedevano di entrare. Negli anni questo party è diventato la festa di Natale per eccellenza, dove le nuove generazioni che frequentano ora le discoteche si mischiano agli storici direttori artistici e ai personaggi della notte che hanno fatto la storia dell'House Music nella regione Abruzzo e nel centro Italia. Da allora tutti aprono il 25 dicembre. E la cosa ci fa piacere, ma solo uno è il party di Natale. Il nostro. Sabato 25 dicembre, Giovanni Perma, GPM Management, in collaborazione con DJ Promotion, presentano il party di Natale. White Christmas, quindicesimo anno. Nel locale di Sonica, Pitti Club, via Ferrari 1, Pescara.